Ciao ragazzi, bentornati su IWS, oggi sono in compagnia di Andrea Foffi per scoprire una parte della sua collezione. Ho selezionato un po' di orologi, un po' di brand che ritengo che in questo momento siano oggetti del desiderio. Che spaziano dall'oggetto elegante all'oggetto sportivo e via dicendo. Piano piano andremo avanti e vedremo gli oggetti nello specifico. Oggi da cosa partiamo? Perché intanto dovremmo capire un pochino come ti sei appassionato agli orologi. La passione nasce diciamo tanti anni ecco, da inizio 90 che mi sono appassionato ed ero diciamo piccolo. Le prime riviste che c'erano di settore, ho cominciato con Orologia Market che è una rivista che uscì nel 97 per poi spaziare su altre cose, su altre riviste di settore. La mia passione è sempre stata Orologia e Macchine. Diciamo che ho cominciato con gli orologi e all'epoca mi sono sempre appassionato diciamo ai marchi minori che potevano essere Longin, Omega, Minerva, Come Movado e altri altri brand. Compravo anche Vatec e Rolex. Però la mia passione principale era la manifattura ecco quindi... Quelli un po' più di nicchia. Quelli un po' più di nicchia. Che poi erano gli oggetti che erano meno oggettonati e quindi avevo anche più spazio di trovare. Sì, pezzi rari. Pezzi rari dove c'erano meno occhi puntati su quegli oggetti là. Poi andando avanti il mercato si è evoluto e anche il Longin Crono è diventato un'icona e molto importante. Fare quasi a gara con Patec e con altri brand molto più blasonati. Bene, abbiamo qualche orologio qua tra le scatole. Io direi di iniziare da questa. Vogliamo cominciare da questa qua. Iniziamo da questa qua. Sì, avvila tu. Wow. Bene, allora qua vedo tanti marchi diversi e dei marchi importanti in questo momento. Vedo Cartier, vedo Piaget, vedo l'Octo finissimo di Bulgari. Sì, diciamo che qua ho selezionato degli orologi moderni o pseudomoderni, diciamo eleganti. Ecco, elegante lo definirei un elegante sportivo. Qualcuno ha il classico disegno Genta, che è il brand che oggi va per la maggiore, proprio il disegno Genta. Delle riedizioni che sono state fatte da qualsiasi casa, in questo momento, riprendono molto quel tocco là, quel disegno là. Se non altro appunto hanno avuto l'iniziativa di rifare oggetti d'epoca, rifare questi moderni come questi Piaget, appunto su Falsarica dell'epoca e li hanno fatti, devo dire, molto molto bene. Stanno rifacendo dei moderni che sono veramente molto belli e che fanno proprio fede all'oggetto d'epoca. Ecco, raccontaci un pochino. Qua io ho preso, diciamo, tanto per diversificare, ho preso due oggetti, insomma, per ogni brand. Questo è il classico 8 finissimo che conosciamo, che è uscito adesso. Questo è un titanio Bulgari, fatto per il mercato arabo, con i numeri verdi. Un oggetto, diciamo, estremamente raro, perché con i numeri verdi ne hanno fatti pochi rispetto ai numeri blu. Vabbè, movimento a vista, scheletrato, e questo, insomma, lo trovo che sia un oggetto veramente molto figo. Beh, sì, e comunque l'octo finissimo sta riscutendo un grande successo in questo momento. In più, con questo quadrante, con i numeri... Con la particolarità di avere, diciamo, questa... Indo-arabici. Arabici, sì. Stessa cosa lo troviamo sull'oro rosa. Questo è, insomma, stesso modello d'oro rosa, sempre con la caratteristica di avere i numeri, diciamo, per il mercato arabo. Quindi... Abbiamo entrambi, abbiamo la versione in oro rosa sabbiato e titanio sabbiato. In titanio sabbiato. Peccato che è molto delicato questo, perché essendo sabbiato si vedono molto... I graffi... I graffi è delicato comportarlo. Però lo trovo veramente un bello oggetto, micro rosore, bello. Sì, è un bel movimento anche. Sì, sì, è un bel movimento. Un orologio molto riuscito e che, secondo me, ci darà la giusta soddisfazione, perché rispetto ad altri brand che ormai sono alle stelle, questi ancora sono, diciamo, alla portata un po' di tutti, ecco. Sì, sì, assolutamente. È un oggetto che, comunque, a parte il titanio, a parte il quadrante speciale, però, insomma, con 10-15 mila euro uno lo può comprare, ecco. Sì, sì, assolutamente. Parliamo di cifre abnormi. E questi sono i due bulgari, diciamo, che ho deciso di mettere... Di farci vedere. Di farvi, sì, di presentarvi, ecco. Da qua andiamo sempre su un disegno Genta, quindi andiamo su questi oggetti che si conoscono poco, si vedono poco... Molto poco. Molto poco. La produzione è limitatissima, perché ne fanno veramente pochi. E naturalmente è un modello discontinuo, perché non fanno più. Non hanno fatto questo, non sono tirature limitate, però è un oggetto che è stato in produzione fino al, se non vado errato, 2019-2020. Ah, quindi proprio... Sì, proprio da poco, 2018-2019, ora vado a memoria, sì, a spanne. Perché ci fu una produzione del 2016, che ne fecero 28 pezzi limitati, che erano bianco e onice, e ne hanno fatti diverse versioni. L'hanno fatto rosa, l'hanno fatto rosa, quel quadrante grossularia. Sì. Questo invece è un oro bianco con il quadrante malachite, che è molto bello. Poi tra l'altro questo quadrante è venuto veramente bello, perché ha questa striatura che passa sotto a piaget. Esatto, ogni malachite, ogni pietra è diversa, quindi ogni orologio è unico. Sì, e questo diciamo che è venuto un'opera d'arte, perché è venuto in un modo proprio figo, ecco. Cioè questo contrasto con queste righe è molto vistoso. Perché io ne ho avuto un altro anche uguale, ma era più su base verde, non c'era tanto nero. Non c'erano striature. E questo è, diciamo, la versione oro bianco malachite. Poi abbiamo anche l'oro rosa. Qua abbiamo l'oro rosa. Questa è la versione invece di oro rosa, sempre, diciamo, fa sempre parte della linea di quando fu lanciato. E questo appunto è rosa, quadrante lapislazzulo. Eppure questo è molto bello, perché alla luce l'apis è una pietra viva, calda, poi con rosa. Sì, ha un bel contrasto. Ha un bel matching, sì, molto bello. I cinturini, devo dire che loro sono molto bravi, perché sono di un pellame pazzesco. Piatti, volgenti, morbidi, sono molto belli. E questi sono i due piacere. Diciamo che questi quattro qua è una configurazione che, secondo me, un collezionista, diciamo, che si avvicina al mercato dell'orologeria, è bello da avere. Insomma, sono oggetti particolari, metallo chiaro, metallo scuro, è interessante. Poi, ripeto, sono oggetti che uno può mettere sotto la giacca e la gravatta, come per dire, sotto alla felpa, con la tuta. Sono oggetti, secondo me, che non hanno un mercato specifico. Sì, soprattutto con l'Octo. L'Octo è proprio come se fosse, insomma, un altro orologio elegante, potrebbe essere un Naudilus, potrebbe essere un Ademar Piguet. Sì, è la penna di gente, alla fine, che ti permette di poter usare un orologio del genere con una giacca o con una felpa. Sono d'accordo. Bene. Poi, qua vedo alcuni Cartier. Sì, andiamo su Cartier perché, appunto, elegante, un po' oggetti discontinui, un po' oggetti del desiderio, un po' oggetti che si vedono poco. Ho deciso di avvicinare a questi orologi qua, diciamo, altri orologi che fanno sempre parte di quella cerchia, insomma, non di quella cerchia, di quella mettibilità là, insomma, che è sia sportivo che elegante. E quindi qua ho preso tre forme, naturalmente, di Cartier, dove c'è il tonno di platino, che è un orologio, pure questo, fatto in pochissimi pezzi. Esiste di platino, d'oro giallo e penso basta perché è d'oro bianco che l'hanno fatto, anche rosa credo di non ricordo, rosa non penso che non l'hanno fatto. Moderni, credo, ma non di questi. E devo dire che questo è un oggetto molto bello perché è avvolgente, è un po' curvé. No, è bellissimo, poi comunque non ci rendiamo conto che questa forma tonno è tornata di moda adesso, perché per tanti anni non è piaciuta, non piaceva comunque. E quindi anche per dire, quando vedo una cassa del genere mi viene in mente anche Richard Mill, perché la cassa tonno che adesso sembra così in voga, si ispira un pochino a questa. Questo è il classico tank, tank americano, naturalmente avendo selezionato delle rarità non è un tank normale. Questo è un tank... Me lo immaginavo, diciamo che non fosse un tank normale. Dicello, diciamo, è un oggetto molto molto raro perché è un tank di platino con i numeri verdi, anziché bruniti, neri, insomma il classico tank, è di platino. E questa è una tiratura limitata per l'Italia, 30 pezzi. Naturalmente parliamo di orologi meccanici, non c'è nulla al quarzo, nulla automatico, quindi sono tutti di manifattura, ecco, manuali. E questo appunto è un 30 pezzi, questo è il numero 11. La versione per la scala di Milano, quindi molto figo questo oggetto qua, con la sua fibbia di platino, ha una bella misura. Perché per dire, per chi lo ha al polso, sa che è un 30 pezzi, però deve essere una persona, cioè per notare il fatto che sia un'edizione limitata, quindi con i numeri verdi. Devi osservare il quadrante. Devi stare lì, guardare bene. Devi essere proprio un appassionato di cartiere, o comunque di orologi. Sì, sì. Molto bello anche questo. E poi ce n'è uno che diciamo che secondo me forse è l'orologio forse più iconico, io parlo insomma delle riedizioni, non parlo di orologi degli anni 40, ecco. Questo è un orologio degli anni 90, è il classico Sin 3 di platino, scusate d'oro giallo, è stato fatto anche di platino. Che riprende perfettamente quello degli anni 30, 40, perché è fatto in un solo corpo, quindi ha la cadure, che viene tenuta da questi viti laterali, non ha viti sul fondo l'oro giallo, e quindi è due pezzi. Ecco, proprio come era quello dell'epoca. E questa è la versione francese, infatti, a differenza di quello normale, ha i numeri arabi anziché romani come li vediamo solitamente. È una tiratura limitata di 150 esemplari, questo è il numero 23, e devo dire che questo è un oggetto pazzesco. Il primo che ho visto in questa scatola è stato proprio quello, perché siamo abituati a vederli comunque con i numeri romani, bellissimi orologi comunque. Anche neri, anche 40 neri. Sì, assolutamente. Ma questo con i numeri arabi così è unico. Sì, è proprio da questi numeri esplosi, è proprio pazzesco, a me piace veramente molto questo orologio qua. Molto bello, sì. Quello d'epoca è molto raro, se ne sono visti pochissimi, è anche complicato comprarlo, perché parliamo degli anni 30, quindi restauri, quadranti, sicuramente magari ristampati che ci sta, perché comunque a distanza di 100 anni, voglio dire, un restauro conservativo su un orologio ci può stare, perché ci può stare. Però, sai, su questo oggetto qua uno ha un orologio moderno, con una tiratura, con la pergamena dove dice il 23 di 150, è molto interessante. Tant'è che questi oggetti qua oggi veramente stanno facendo delle cifre che si avvicinano quasi agli orologi d'epoca, perché sono talmente fatti bene. Però parliamo, andiamo già indietro, insomma, di 30 anni, perché sono degli anni 90, 95, ecco perché mi riallaccio al discorso di prima. Fino a dieci anni fa hanno fatto questa linea qua, che riprendeva un po' l'epoca. Adesso trovo questi tourbillon, queste cose un po', diciamo, un po' più aggressive, che io, partendo dal vintage, no? Perché io ho sempre fatto vintage, mi ritrovo più in questi oggetti qua, piuttosto che un tourbillon di Cartier, che magari all'epoca... Sì, un pascio a scheletrato, un po' troppo rispetto a quello. E quindi di Cartier ho selezionato questi oggetti qua. Adesso io direi di andare, perché qua abbiamo un paio di altre scatole. Sì, abbiamo un po' di cose da... Però io sono ispirato da queste qua, perché adesso abbiamo i Gerald Genta. Diciamo che qua abbiamo l'ispirazione, diciamo, più estetica. Che è proprio del design, anche se il design c'è sempre... È il classico disegno Genta, degli orologi con questa zichi di natura laterale della Cartier, che è il classico... Beh, la classica cassa disegnata da Genta. Quest'anno è un anno importante appunto per Genta, sia per l'anniversario del Royal Oak, che per, come abbiamo visto, la sua tematica di Sotheby's, con tutti i disegni originali. Gli acquarelli, sì. Esatto, se non sbaglio c'è il disegno originale di questo qua. Sì, il verde. Esatto. Che interessante. Beh, questi sono tutti oggetti, diciamo anche questi, le definirei non d'epoca, però comunque sono sempre oggetti... Quasi, perché questa era una collaborazione che Genta aveva con Disney e quindi ha tirato fuori questi orologi con dei quadranti madreperla, con la... I cartoni. I cartoni, sì. E qua, insomma, ce ne sono di diverse tipologie, perché c'è Donald Duck, c'è Minnie, c'è Mickey Mouse... Sì, Mickey Mouse. E c'è anche qualche versione per dire questo ha un... Sono, diciamo, questi sono 36 mm, perché la misura era 34-36, sono stati fatti sia al quarzo che automatici. Io, diciamo, sono un po' scettico sul movimento al quarzo, a me piace l'automatico, quindi ho selezionato solo automatici, ecco. Quindi questi sono tutti automatici e tutti della misura grande, 36. Questi sono gli unici due 34 e ci sono poi due diamantati, perché io per le pietre vado patto, poi dopo vi farò vedere altri oggetti, insomma, più... Molto particolari. Più particolari. Questo ha due file di diamanti sulla lunetta, naturalmente parliamo di orologi factory, eh, non parliamo di... Nulla aftermarket. Perché ne ho visti tanti che, appunto, sono stati poi modificati apportando pietre, come spesso succede anche su... Sì, su altre... Su altri brand, eccetera. Questo ho fatto verifica io in Genta, tra l'altro delle revisioni, quindi nasce così, nascono così. Sia questo che è 36, che questo che è 34, hanno tutti e due. Uno alla fine ha i diamanti sulla lunetta, l'altro ne ha due. Molto particolari. Sono, a me questi piacciono veramente tanto. E qua, invece, andiamo sul classico timone di Genta, no? Su questo disegno qua, poi hanno fatto i perpetuali. Sì, beh. Tutto il resto, eh. È nato un sacco di altri orologi di Genta con altre complicazioni, hanno tutte queste casse. Hanno tutte queste casse qua. E questi, devo dire, che sono proprio... A me piacciono da impazzire, sì. Sono tutti e due Mickey Mouse, sono tutti e due... Sono tutti Madre Perla. Ma la cosa figa di questi oggetti qua, perché uno non si rende conto, ma qua dietro c'è veramente tanta manifattura, eh. Questi vetri qua sono lapidati, cioè ogni spicchio, questo è un timone, ogni spicchio ha il vetro che è lapidato verso... Verso, sembra quasi un diamante, no? Esatto. Quindi, cioè, direi una lavorazione che veramente fa spavento. E personalmente, a parte sono i più rari questi qua, personalmente mi intrigano di più rispetto al tondo, anche se, insomma, è bella anche quella come cassa, perché la classica, insomma, ripeto, zichinatura lata con... Cassa a moneta, diciamo. Sì, cassa a moneta. E poi ce n'è un altro pure, sempre in questa selezione qua, ora vado a chiudere questo qua, che io francamente ne ho visti veramente pochi, che è d'oro, ed è questo qua. Che è molto raro. Che è molto raro, d'oro rosa poi tra l'altro, neanche giallo. Misura 36, non 34, perché 34 io ne ho visti qualcuno, ma 36 credo di averne visti forse un altro, ma pochi ne ho visti. Questo è d'oro raro, sempre automatico, con la figura Donald Duck. Naturalmente sono tutti, a parte i timoni, sono tutti saltarelli. Forse la complicazione, a me viene da dire la complicazione preferita di Genta perché... Eh sì, ne ha fatti tanti. Ne ha fatti tanti, saltarelli, sì. Il jump ne ha fatti veramente tanti. E questa cosa, insomma, che qua per dire la mazza arriva al 60, lo sbatte dietro e cambia l'ora. Io trovo che sia una figata incredibile. Geniali per l'epoca. Oggetti, sì, oggetti veramente, secondo me, veramente sottovalutati rispetto a tanti altri orologi che oggi... Certo, è un orologio particolare, è un orologio da indossare... È più simpatico, è un orologio simpatico, ma sta riscuotendo successo molto più adesso che prima. Magari non erano stati capiti. E poi un'altra cosa ho notato, che questo facevano molto parte del mercato asiatico, perché di questi oggetti io ne ho selezionati tanti che poi provenivano dall'Asia, ecco. Comprati qua, ma poi l'origine dell'oggetto era... Era il mercato asiatico. Il mercato asiatico, sì. Infatti quei pochi che mi capia di vedere ancora sul mercato, non so, stanno tutti... Sono tutti di là. Sono tutti di là, sì. E quindi, insomma, lo trovo un bell'oggetto. Poi la classica corona con i puntini, insomma, un orologio veramente... Iconico. Veramente figo, iconico. Poi tra l'altro adesso Gent ha tirato fuori questa replica di 150 pezzi. Andata via subito. Andata via subito. Io personalmente non l'ho comprata, perché... Un po' per la misura, che è molto più grande rispetto a questa. Un po' perché il 40 non è in madreperla, mi sembra, è un 40 normale. Il 40 è normale. E non l'ho presa. Però magari... Non è male. È bello, sì. Però quello ho riportato tutti questi oggetti qua. Beh, dall'altra parte comunque ce ne sono qui... Sì, sono così tanti e così particolari che quello lì è anche un di più. Un di più, sì. Io alla fine se devo mettere un Gent a di questi qua, asfiziosi, metto questi qua. Chiaramente. E poi devo dire che la particolarità di questi oggetti qua, che naturalmente uno non si rende conto, è che quando li porti sembra sempre di avere un quadrante diverso, però l'oggetto è lo stesso, perché la madreperla dipende dal sole, se piove, se nevica, se sei al mare diventa viola, diventa rosso, cioè io sono un amante del quadrante madreperla, lo preferisco a qualsiasi altro quadrante, anche pavè, cioè mi piace proprio... Ha più carattere. Ha più carattere, sì. E ripeto, sembra sempre di indossare un orologio nuovo, diverso, eppure lo stesso. Chiaro. Quindi, che poi venivano fatti come prima, i piacet, sono tutti, no? Hanno la loro personalità. Sì, ogni pietra è unica. È unica, sì. Sì, e poi anche la madreperla di per sé, puoi trovare lo stesso orologio in madreperla con una tonalità totalmente diversa, nonostante sia madreperla chiara. Sì, poi qua per esempio hanno fatto, su questo Donald Duck, hanno fatto una sorta di settore, perché dentro è madreperla, fuori ha un altro colore. Cioè, sui quadrati qua si sono sbizzarriti e poi c'è questo disegno, insomma, del personaggio che, non so, appunto, Acquarelli, non so come venivano realizzati effettivamente, però devo dire che sono oggetti d'arte, cioè proprio come se fosse un quadro. Assolutamente sì. E questo è, questi sono i, questa è la collezione dei topolini, ecco. Bene. Tra l'altro c'è anche un topolino particolare che è un Rolex, un Dejust Factory, che però non ho portato e quello poi magari faremo una cosa sì, una cosa sì, proprio su quell'oggetto là. Assolutamente. Proprio Factory Rolex per un, per un, per un negozio che vendeva giocattoli sempre in Hong Kong. Pazzasco, ma poi, cioè, ce ne sono pochissimi forse di Factory. No, io ho visto solo quello. È scritto Kindo sul quadrante, che poi ho fatto una ricerca, effettivamente è stato commissionato da questo giocattolaio. Pazzasco. Bei tempi quando si potevano commissionare questi. È un vetroplastica, anni Ottanta. Chiaro. Quello è molto figo, però, insomma, era esul e dava i Genta proprio, era un Rolex e quindi mi sono concentrato qua. Sono questi, certamente. Adesso che abbiamo parlato di Genta, io direi di vedere cosa c'è in quel roll nero. Questa roll nera? Sì. Ok. Beh, qua non è che ce ne sono tanti gli orologi, ce ne sono, quanti ce ne possono essere? Possono essercene due o tre. Due o tre. Due o tre, però due o tre particolari. Allora, li apro così e magari li metto direttamente qua, così almeno li si vede già come primo impatto. Questo è il classico scheletto, il classico scheletto di Adamare che conosciamo, Bisestile, quindi è uno degli ultimi, cioè sia Bisestile che non Bisestile, i non Bisestile sono le prime serie e questo già è un seconda serie, insomma, è uno degli ultimi discontinui che hanno fatto, ecco. Che ha riscosso un successo inimmaginabile negli ultimi anni. Oggi gli scheletto sono gli orologi più richiesti in assoluto e questo orologio ha una condizione veramente spaziale perché non ha mai visto spazzola e i Gerald Genta come in Autilus, cioè gli Adamar Piguet, insomma, questo disegno qua, quando vai a toccarlo cambia proprio la forma e sembra proprio tutto un altro orologio. È impossibile lucidare una seconda volta un orologio del genere. Sì, ci vuole il diamante, cioè è molto difficile, quindi è molto importante la condizione. Questo, ripeto, questo è uno scheletto, è un 25829, se non vado errato, perché io con i numeri ogni tanto... Vabbè, con tutte queste referenze, tutti questi orologi, ci credo, ci credo. Ve li scordo. Corona scatto, non ha vite, scheletto, un gran bello orologio, movimento a vista, rotore Venturo Carati, decorato, questo direi che in questo momento è quello che... Più ambito. Più ambito, sì. A parte le versioni particolari che possono essere... Anche Madre Perla, ne ho visti tanti Madre Perla, l'ho avuto Madre Perla d'oro, rosa... Io ne ho avuti tanti, questo però devo dire che ha un appeal particolare, perché l'hanno fatto anche di platino, però di platino è pesante, è immettibile, nel senso che l'acciaio è più versatile, è più comodo, lo metti con più disinvoltura, se non altro poi ne hanno fatti anche meno, l'acciaio è molto più raro del platino, è strano, perché essendo un complicato, loro preferivano farlo più su un metallo prezioso, è come poi gli orologi di una volta, se tu prendi, non so, un 15-18 d'acciaio è molto più raro un 15-18 d'oro giallo, come d'oro rosa, se tu prendi un tasti tondi, stessa cosa, quindi anche adesso più o meno stiamo sulla stessa linea, quindi l'acciaio in assoluto è comunque l'oggetto più raro, è anche ambito, perché comunque, ripeto, è più mettibile, ecco. E poi vedo uno diamantato, sempre factory, questo è sempre factory, l'oroggio è rarissimo, non mi ricordo la referenza, di questo è un book bellissimo della DeMar Piquet con tutte le foto che rappresenta proprio l'oggetto, appunto è stato in DeMar, dove è full diamond praticamente, è il classico Royal Oak da 39 mm, che io lo ritengo l'oroggio più bello in assoluto, semplice, grono, tre contatori, automatico, con la data, però questo ha la particolarità di essere, vabbè, d'oro bianco, d'oro bianco, quindi un pochino più importante, e con pietre dappertutto, ecco. Ne ho visto anche un altro di recente all'asta, che era era pavè dentro il quadrante e aveva i contatori di madreperla, però su questo oggetto qua vedo più il tappeserie. Sì, sembra l'orologio di bianco. È più contrasto, cioè come poi l'acciaio normale, no? Perché esiste acciaio normale con la stessa configurazione. È come l'orologio di ghiaccio, diciamo. Sì, proprio ice, ecco, sì. Bene. E questo è l'altro, diciamo, che parliamo sempre di Genta, ecco, oggi, no? Visto che... Non è l'orologio importante. Sì, visto che parliamo, insomma, c'era un complicato, ho deciso di prendere un Patek, perché il Patek è sempre Patek, no? Beh, certamente. È un classico, secondo me... Un classico molto importante. Un classico molto importante, che forse fino a poco tempo fa era poco capito, però io già lo ritengo un oggetto d'epoca. Sì. Perché comunque... Che è stato prodotto fino alla fine poco... Non troppo. È stato prodotto fino al 2015. 2000 e qualcosa, sì? Sì, 2000... No, 2010... C'è stata l'ultima serie in acciaio che hanno fatto... Sì, penso nel 2015, non ricordo, ora bene. Insomma, parliamo qua, parliamo del 5004. Perpetuale, calendario, split second. Veniva dotato con il doppio fondello, sia aperto che chiuso. La produzione totale era 1.156 pezzi in totale, tra rosa, platino, oro bianco e acciaio. I più rari, paradossalmente, era l'oro bianco, è stato l'oro bianco e l'acciaio. Poi subito dopo l'oro rosa... E poi l'oro giallo, invece. L'oro giallo e poi il platino. Il platino è quello che hanno fatti di più in assoluto, perché erano circa 500 esemplari. Certo, poi nelle varie declinazioni, perché c'è il nero con i numeri, il nero con gli indici button... Dipende, ecco, brillanti... Però secondo me il 5004 deve avere i numeri, perché lo differenzia dal 3970 che i numeri non li aveva, a meno che era una richiesta speciale del cliente che voleva 45004 su 3970, che non era split. Questo appunto è d'oro rosa. È importante di questo, per esempio, le condizioni, perché ha questo bisello qua del lanza, che spesso e volentieri, quando c'è l'oroggio lucidato, va via. Eh sì, perché è quasi impercettibile. È leggerissimo, quasi impercettibile. Eppure è molto difficile di farlo. Le prime serie avevano i punzoni laterali, ce l'avevano qua, quindi proprio al lato della carrure, e non avevano la coda della doppia lancetta centrale, ma era tagliata. Erano delle piccole lancette e si vedevano anche poco. E avevano un altro calibro. Io parlo dei primi serie, io parlo degli anni 98-99 fino al 2001-2002. Poi c'è stata la versione successiva che ha cambiato il calibro e ha fatto queste lancette con il contrappeso più lungo dietro, con la codina, perché comunque quello prima dava dei problemi. Quando splittavano, non andavano bene alle ore 12, e quindi hanno fatto un piccolo restyling, che poi restyling non è, perché poi l'oroggio è lo stesso. Minimo. Minimo, sì. E quindi questi sono i complicati. Insomma, questo più che complicato è l'oggetto è importante per via dei diamanti, è sicuramente un oggetto esclusivo. Questi due invece li trovo dei complicati importanti, ecco. Allora, abbiamo questa valigetta. Qua abbiamo dei Daytona, andiamo sia dal moderno, quindi dal Daytona automatico, andare dietro ai Daytona a carica. Nel centro ho messo anche dei Tudor d'epoca, perché comunque io li ritengo sempre nella fetta, diciamo... Importante per Rolex, il mondo delle corse, sì, sì. Quindi qua c'è una fascia di Daytona dove è legato un po' il Big Red, il Monte Carlo, l'onplate di Tudor. Sono oggetti che addirittura l'onplate, quando veniva venduto, stava dentro un casco. Quindi... Le corse, diciamo, gli appartengono. Sì, appartengono molto. Poi, come sapete, mi conoscete, io ho un debole... Per i diamanti. Per i diamanti, come avevi visto prima, la Damar Figué. E quindi qua ho selezionato un po' di oggetti, un po' di Daytona... Che sembrano simili. Che sembrano simili, ma tutti hanno, appunto, un numero in più nella referenza, perché c'è sia la versione Rolex Rolex, che la versione Zenith. Infatti, qua abbiamo la versione... Io li tiro fuori così almeno... Qua cominciamo da un 116589, che è un salve, quindi con pietre, zaffiri e rubini, quadrante Vavè, naturalmente il movimento 4130, perché è la versione, insomma, già Rolex. Sì, esatto, con la referenza Rolex. Con la referenza nuova. E... Di questo, appunto, c'è sia la versione Rolex, che è questa, sia la versione Zenith, che è, diciamo, col movimento 4030. Questo è un orologio che risale al 2002 e questo è un orologio che risale a 95. Che sono molto simili tra di loro. Sono similissimi, però ci sono delle differenze, a parte il calibro, a parte i contatori che, comunque, voglio dire, sono diversi, perché sappiamo che i Rolex ha i secondi sotto rispetto alla versione Zenith, ma anche nella cassa si vede che la versione Rolex è molto più cicciotta, è più spesso. Questo è più orologione, questo è un po' più esile. Un po' più fine, sì. Paradossalmente, insomma, dalla mia ricerca, perché su questi oggetti ho studiato molto, perché appunto mi piacciono, le versioni Rolex in assoluto sono più rare delle versioni Zenith. Io di rubi di 16-589 ne ho visti diversi, ne ho avuti diversi, mentre di 85-65-89 rubi ne ho avuti, ho avuto questo, un altro, e poi ne ho visto probabilmente un altro paio, ma si parla di cinque pezzi al mondo, non ce ne sono tanti di più. Invece di Zenith ne ho visti diversi e posseduti diversi. Paradossalmente, anche se uno direbbe Zenith è più raro, invece no, in realtà Rolex è più raro. Interessante. E di questi qua io ho preso appunto questi, questi li faccio vedere dopo perché non sono full diamond, e questa è la versione invece sempre non braccialati, perché braccialati hanno completamente un'altra referenza, sempre versione solo testa, però d'oro giallo ho preso l'oro bianco e quindi ho preso l'oro giallo. L'oro giallo, questa è la versione con le pietre fucsia. Questa è la versione Rolex e la referenza è 11-65-88. Di questi orologi qua ne esistono due al mondo. Pazzesco. Questo ha la sua garanzia originale, io l'ho comprato con la sua garanzia originale. Se ne conosce soltanto un altro sul mercato che è a Milano, non faccio nomi, è un collezionista importante di Daytona, che ha lo stesso modello. E non se ne sono mai visti altri. Però ho mai visti altri. Si dicono che ne hanno fatti due per una corsa, ma non ho capito bene. Quale corsa? Sono tutti e due italiani, con garanzia italiana. Cioè il mio ha garanzia italiana, ma anche quello so che l'hanno consegnato in Italia. Tra l'altro il concessionario se non vaderà dei baschetti, vercelli, una cosa del genere. Ora vado a andare, non lo ricordo bene, però è italiano. E questa è la versione che esiste solo così, uscito solo così, che è pietre fucsia, oro giallo, quadrante madreperla, MOP, con gli indici brillanti. A differenza della versione Zenith, che è questa, sempre stessa configurazione, ma naturalmente con uno in meno, che è 16 588, quella è 11 688, che esiste sia con la versione pavè, come questo, e sia con la versione normale, madreperla, oppure bianco normale, se ne sono visti in diverse configurazioni. Quindi là è obbligata, perché se ne sono visti due, sono tutte due con la madreperla. Questo è un po' più visto, se è visto sul mercato, in diverse configurazioni. Poi esiste di due versioni il madreperla, esiste con i contatori oro e con i contatori argente. Il più ambito è quello con i contatori oro, perché è quello che rappresenta più il quadrante dentro questa cassa qua, perché essendo tutto oro giallo, il contatore è oro giallo. Assolutamente. E quindi questi sono i due di Daytona con pietre, versione Rolex e Zenith, poi da vedere le condizioni, a me piace molto la condizione dell'orologio. Tutti con i bollini. Tutti con i bollini, naturalmente il Rolex e il bollino non lo porta più, perché non li hanno più messi poi i bollini con le referenze, mentre Zenith al bollino e quest'altro al bollino. Andando avanti, qua abbiamo un oggio molto raro, che è un classico... Anche molto bello. Anche molto bello, sì. Perché tra l'altro ne hanno fatti pochissimi di questi quadranti qua, perché era difficile da incidere la scritta sopra il quadrante, perché è un quadrante di grossularia, quindi è una pietra molto porosa. quando andavano a incidere spesso si spaccava, si spellicolava e quindi diventava difficile, diciamo, produrlo. E anche qua abbiamo la versione Rolex, che è molto rara. Molto rara. Ma anche su Zenith è molto rara. Sono tutte e due versioni molto molto rare, perché è un quadrante veramente speciale. Ne hanno fatti veramente in pochissimi esemplari. Molto bene. Questa è la versione... Questa è la referenza. È 11.65.19. Naturalmente esiste anche senza quadrante qua. Sì, sì, sì. Questo è un quadrante speciale. E è nettamente... Insomma, parliamo di valori completamente diversi rispetto a questo. Con stessa referenza è un quadrante normale rispetto a questo con questo quadrante qua. è un po' come un Daidona normale, un Daidona Paul Newman. Chiaramente ci sono un pochino... Tanta differenza. Un po' di differenza. E questa è l'11.65.19, quindi la versione Rolex. E questa è la versione Zenith, che è 16.519. Sempre con un numero meno. Sempre con un quadrante, grusso l'aria. Sempre con un numero meno perché cambiava, no? La referenza, sì. Anche qua abbiamo il bollino sotto, cosa che non c'è là. Ma anche questo hanno questo quadrante... Si, si nota la differenza. ...porosso, molto poroso, perché poi ne hanno fatti di diversi step. Queste sono le prime serie, che hanno il quadrante molto poroso. Poi consecutivamente hanno fatto altre mandate di quadranti che sembrano un po' più lisci. Questi sono i veri quadranti, diciamo, grossularia dell'epoca. Interessanti questi. Questi sono molto belli. Molto belli, sì. Poi qua abbiamo, invece, i primi automatici. Ah, c'è un'altra. Infatti, dopo il carica manuale, c'era nell'88, è uscito l'automatico. I primi automatici avevano la caratteristica... Beh, io ho preso due braccialati, ok? Quindi sono referenza 16.528. C'è questo qua, che è un lettera E, quindi leggermente successivo, è un 92. Mantiene ancora un quadrante vecchio, perché i primi quadranti avevano quattro file sul quadrante, anziché cinque, perché non erano l'ufficialità di cronometer. Con i diamanti, quindi questo è champagne d'oro. E diciamo che ho preso questi perché sono iconici, molto iconici. Per quel periodo di Rolex. Per quel periodo là, perché è la primissima serie automatica dopo il carica manuale, ecco, il 1889. E ho preso sia questo che champagne, che è molto bello, con la lunetta normale, perché questo è un transizionale. Cioè, ha un quadrante precedente, ha già una cassa... Una cassa nuova. Una cassa, diciamo, la lunetta nuova, che è a 400, però mantiene ancora un quadrante della serie precedente. Evidentemente avevano un quadrante in casa e sei mesi dopo hanno lasciato quello. Diciamo che il collezionismo di Rolex si basa su questi dettagli, transizionali. Naturalmente questi vecchi non avevano la flip lock, ma avevano soltanto la chiusura come i vecchi, no? Esatto. Non avevano la doppia chiusura di sicurezza. Questo è un orologio molto raro, perché questo è un quattro scritte, lettera R, uno degli ultimi, brillanti, nero, prima serie. Questo orologio è un orologio che sta... A parte tutti gli orologi sono... Proprio questi esemplari qua sono nel libro che ha fatto Pucci Papaleo, dedicato ai Rolex automatici. Tutti sono pubblicati. Questo addirittura è sulla cupertina. Questo è un oggetto veramente molto importante, perché quattro scritte, brillanti, R... Un bello orologio. Un bello orologio, se ne sono visti veramente pochi con questa versione qua. Champagne è già un po' più triste. Sì, sì, chiaramente. Poi sono dettagli che solo chi l'appassionato che conosce bene... Naturalmente questa è la lunetta 200, cosa che quello già ce l'ha 400. Quindi un po' cambia il valore e l'oggetto. E poi sono andato ancora dietro per farvi vedere, diciamo, quelli che io ritengo le icone di Daytona. Lasciamo vedere i Paul Newman e le cose, diciamo, molto spinte che oggi, sì, c'è molto mercato, la gente, i collezionisti sono molto appassionati, molto ricercati, ok. Però, secondo me, l'icona di Rolex è il Big Red. Per me il Big Red è l'orologio più... è l'orologio in antonomasia, è l'orologio più bello che secondo me come linea, come prospettiva, come equilibrio. Ha tutto, diciamo, questa lunetta è in contrasto con la scala tachimetrica, i tasti a vite... Assolutamente, assolutamente. E anche di questo è importante la condizione, perché comunque... Ma anche solo... Le luce di una volta cambia proprio la forma della cassa, questo addirittura sembra un automatico per quanto è grande. Sì, è bello solido comunque. Perché sembra proprio mai toccato solo questo orologio qua. Si vede poi anche proprio l'aspetto. Il bracciale è ancora dritto, non si chiude. È proprio l'orologio messo pochissimo, ecco. E, naturalmente, dell'acciaio ho preso anche la versione d'oro, che è il 6.2, 6.3 d'oro. Che questo, diciamo, è un oggetto molto molto raro. Molto raro? A differenza del Big Red... Molto raro che però non ha riscosso subito tantissimo successo. No, in questo... Negli ultimi anni sta andando più forte. Ma sta andando molto più forte perché comunque l'oro va forte. Anche. In senso assoluto. Sì. E questi, diciamo che sono gli oggetti che forse si deterioravano un ripio. Totalmente, il bracciale... Questo bracciale sicuramente si rovina in maniera... Sì, molte volte infatti non lo si trova attaccato, si trova col cinturino. E che cambia totalmente il valore. Sì, questo addirittura conserva ancora il suo bollino suo dell'epoca. Quindi parliamo di un oggetto. Poi 6.2, 6.3 con il quadrante nero, questo al doppio quadrante lo ce l'ho anche champagne. Comprato così con il quante champagne era un... Diciamo un... Il cliente l'ha chiesto in più perché se lo voleva cambiare se lo cambiava. Però nero è bello. Molto. Come è bello pure champagne eh. Beh diciamo che non si può sbagliare su un orologio del genere. Bene, qualsiasi quadrante... Diciamo che... Si metta su un orologio così... Sono diversi a contrasto però... Sì, sì, è chiaro. Sono molto belli... Io lo trovo un oggetto bellissimo. Molto. E per andare diciamo... Poi per chiudere... Per affacciare... Per chiudere... Io ho portato due Monte Carlo che comunque fanno sempre parte del... Dei crono e dei racing insomma della versione dei Corsa ecco... Gli orologi... Iconici... Di tutor... Legati al mondo delle corse... Che sono i due tutor più rappresentativi in assoluto... Lunetta Baghelide... Questo è un prima serie on plate... Referenza 7031... E questo è il 7149... Quindi esistono sia la versione con la lunetta Baghelide e con la lunetta acciaio... Con la lunetta acciaio, esatto. 7159... Questo qua ha la lunetta acciaio... Poi c'è anche il 7169 che addirittura c'è la girevole... Ah... Su questa versione qua che è la seconda serie... Mentre sulla prima versione che è long plate... C'è la versione con la lunetta acciaio che è la 7032... E la versione con la lunetta Baghelide che è 7031... Ed è questo qua... Molto rara... Sì... Sono due orologi che... Insoliti da vedere... Sì... Insoliti da vedere... Perché... Sono rari... Sono rari... Sì... E stanno riscutendo... Molto successo adesso... Sì... Perché... Una cosa che sta succedendo è che... I collezionisti si rendono conto... Anche tra i ragazzi che si avvicinano a questo mondo... Sono in cerca di qualcosa di nuovo... Qualcosa di particolare... Questi qua sono sottovalutatissimi... Sì... Sottovalutatissimi... Poi tra l'altro... Questo ha un bel calibro dentro... Questo è un po' meno... Questo è un 7... Un balici U23... E questo ha un... Un movimento non a colonna... Che è un 7734... Però questo sicuramente... Pur avendo... Un calibro meno importante... È più interessante... Perché è molto più grano... Perché è il quadrante... Nel complesso... Sì... È più importante... Assolutamente... E questo è... La versione dei Crono... Rolex... E questo è quanto... Super interessante questa parte anche... Sono... 12 pezzi... Che non sono male... 12 pezzi importantissimi... Importantissimi... Bene ragazzi... Prima di... Concludere... Io volevo chiederti... Cosa indossi al polso... Perché è una domanda che... Quando facciamo delle interviste... Ci chiedono sempre... Sì... Ma cosa indossa... Questa persona... Cosa indossa... Ma io... Adesso indosso... Un oggetto che alla fine... Non so perché... L'ho comprato... Ma non riesco a toglierlo dal polso... Perché è talmente leggero... Avvolgente... Ti capisco... E... Particolare... Ecco... Un oggetto innovativo... È un Debetun... È un DB25... È 28... Scusate... TS5... Titanio... Molto particolare... Molto particolare... Poi questa è la primissima versione che ha fatto... Del 2005... Se non vado errato... E... Io... L'ho acquistato... Un po' così... A pelle... L'ho visto... Me ne sono innamorato... E... E... Niente... Lo porto... Lo porto quotidianamente... E... Quasi... Un giocattolo... Ecco... Chiaro... Però... C'è tanta... Queste anse... Che si modellano al polso... Esatto... Io ho il polso molto piccolo... Quindi questo mettendolo... È un roggio grande... È un roggio grande... Che però alla fine al polso non sembra grande... Perché avvolge... Essendo un basculante... Avvolge il polso... E quindi... Si adatta... In maniera precisa... Perfetta al... Poi questa Corona al 12... Questa luna dentro... No... È... È... Pazzesco... La riserva dietro... Che ti dice quanto è carico l'orologio... E poi... Al tempo lo tiene proprio in maniera... Sì... L'orologeria indipendente... È... Il massimo... Esatto... Il massimo dell'orologeria proprio pura... Quindi... Si... Porto questo... Quando... Lo tengo a portata... Ecco... Quando è... Mi metto questo... È un oggetto che... Simpatico... Assolutamente... Bene ragazzi... Io ringrazio Andrea per questa bellissima chiacchierata... Mi ringrazio voi di avermi intervistato... Sì... Assolutamente... E poi... Magari... Ci sono alcuni role... Ci sono altri role... Poi magari... Ci vedremo la prossima volta... Potremmo decidere... Magari decidere di incontrarci e magari andare avanti con qualche altro capitolo... Perché io poi qua... Avevo preso... Dei Niki Lauda... Degli Oire... Io sono molto appassionato anche al mondo delle... Delle corse... Delle auto... Delle auto... Questi non li puoi... Questi non li puoi far vedere tutti adesso... Questi non li facciamo vedere... Perché se no... Magari... Diteci nei commenti... Nei commenti... Se vi piace... Magari faremo altri... Un altro episodio... Un altro episodio interessante... Assolutamente... Grazie... Alla prossima... Ciao...